Gianluigi re d'Aelli, però quante ne ha passate, ovvero vita di Gian da tagliato fuori a figlio del 68 e cittadino impegnato. Chiunque tu sia che stai iniziando a leggere queste righe, vuol dire che forse sono morto, perché proprio non credo di poter riuscire a pubblicare questo libro da vivo, essendo un perfetto sconosciuto, senza santi in paradiso e politici della casta in terra. A meno che mi riesca di vincere qualcosa super nell'otto, l'unico gioco da fregatura a cui ogni tanto soggiacio, per cui avrei grana sufficiente a pubblicare le mie spese. Detto questo, come si deve dire oggi per essere alla page, la mia storia comincia in modo, potrei dire, rocambolesco, fin da quando ho venuto al mondo, così si esprime un mio amico nero e a me piace moltissimo. Dunque, allora cominciamo? Sì, vabbè, lo so che non si deve usare il dunque per cominciare una frase, ma per concludere un periodo. Ma se permettete, a 70 anni suonati, si può cominciare a concludere qualcosa o no? L'inizio di tutto. Ero sui 70 anni quando un giorno di prima mattina, guardandomi nello specchio prima di farmi la barba, mi scopri improvvisamente un po' raggrinzito. Insomma, vecchio. Dapprima cercai di distrarmi col giochino che ogni tanto mi veniva da fare, cioè farmi la barba da una parte sola del viso, lasciando l'altra piena e scura, così per interpretare un personaggio alla Dr. Jack e al Mr. Hyde, quasi per illudersi di poter diventare un altro. Cosa che quando poi, così a metà, mi mostravo alla mia cara metà, finiva regolarmente una specie di derisione senza alcuna comprensione. Quel giorno non mi mostrai e pensieroso ritornai l'impressione che mi aveva fatto quel libro appena letto. Era una specie di romanzo diario e narrava proprio del mio periodo. E ci avevo trovato molti punti di condivisione emotiva. «Ma perché ne ho passate tante, anch'io?» mi dicevo, quasi con stizia. «E allora non potrei scrivermela pure io la mia vita?» Cominciai a pensarci, ricordando anche le parole di quell'illustre critico, dichiarare in tv che solo un grande scrittore aveva diritto alla propria biografia, a raccontare agli altri la propria storia. In un primo momento gli avevo quasi dato ragione, nel senso che non ci avevo riflettuto molto, poi, dopo quel sogno incredibile, in cui venivo strapazzato dai lussi scrittori tanto amati, tra i quali il Kerouac di Sulla Strada, che mi aveva cambiato la vita, e addirittura un Charles Bukowski che mi gradava in faccia che il tutto era una fottutissima stronzata, fu allora che cominciai a chiedermi se quella non era stata proprio una dichiarazione stronza, anzi stronzissima. Perché mai quella delimitazione aprioristica? In base a quale legge, a quale logica? Così, tanto per il piacere di escludere, di stabilire degli steccati, di creare dei privilegi, chiunque, mi dicevo, deve essere libero, se vuole, di poter scrivere la propria biografia, di raccontare la propria vita, qualunque essa sia, se ne ha voglia e la capacità, ovviamente. Altro discorso è se poi questo racconto autobiografico interessa qualcuno, se l'ipotetico libro sarà mai venduto e poi acquistato, e soprattutto, mi dicevo con un ghigno, se detto libro vedrà mai la luce. Sono nessuno, sono un illustre sconosciuto come tanti altri, non sono figlio d'arte, non ho genitori importanti, amici influenti, protettori politici. Sono nessuno e mi sta bene così. Ma sono qualcuno, comunque, e ho tanto da raccontare. Guardandomi indietro ho un po' di cose e le ho fatte, vicissitudine, attraversando 50 anni della storia di questo paese, quindi si può considerare questo il diario di un uomo qualunque che ha navigato per mezzo secolo nelle acque turbinose italiane, senza affondare, e da piccolo protagonista non solo da spettatore. Il desiderio di scrivere questo mio libro epocale, non perché possa fare epoca, ma semplicemente perché descrivo un'epoca, la mia, anzi la nostra, è anche il tentativo di ritrovare, lanciando dei messaggi, tutti quei vecchi amici e compagni di strada di cui ho perso le tracce. Argumentai così per un po' finché con questa definitiva ponderata valutazione presi la decisione. Ma chi se ne frega, io ci provo tanto che cos'ho da perdere? Intanto il titolo. Però quante ne ho fatte? Dopo attenta riflessione mi sembrò pericoloso, a rischio di false interpretazioni. Equivocabili, tipo fatte cosa, marachelle, schifezze, cagate, porcherie. No! Meglio un termine più chiaro. Però quante me ne sono successe? Mi sono capitate? O ne ho passate? Ecco sì, questo va bene, et voilà! Il titolo. Però quante ne ho passate? Ma ora cominciamo. Se poi funzionerà, chissà. Va bene. Ok. Allora, per partire con il piede giusto, dovrei cominciare a parlare dei miei primi anni di rivoluzionario. Della graduale presa di coscienza o di quando ero un normale babbeo senza arte né parte? Potrei cominciare dalla nascita. Già, di per sé eccezionale. Infatti, nasco nello stesso giorno, dell'aprile 1943, in cui nei laboratori della Sandoz, lo scoprirò in seguito, fu scoperto e inventato il potente lucidogeno LSD. E forse per questo un po' sballato lo sono sempre stato. Poi, fatto eclatante, sono potuto venire al mondo per una gran botta di culo. Come si dice. Infatti, proprio il giorno prima del parto, mia madre era stata spostata, per non so quali motivi, da un'ala dell'ospedale all'altra. E proprio quella da cui proveniva fu colpita disastrosamente dai bombardamenti tedeschi che imperversavano nella zona. Questo fatto ha però comportato l'inconveniente di non avere traccia dell'ora della mia nascita, e ciò fa sì, ahimè, che io non possa godere di un oroscopo completo, mancando l'ascendente. Testardo che un ariete lo sono sicuramente, ma ingenue boccalone come cosa. Comunque nella città dell'Umberto Bossi, l'ex terribele Hulk, solo anagraficamente può essere ubicato il luogo della mia nascita, perché il concepimento, con il cuore non solo, dovette avvenire tra Milano e la Sicilia, probabilmente a Palermo, dove allora abbazzicava mio padre con incarico di spettore della Germani Scappino. Sì, proprio quelli del famoso Nodo, e sarà forse per questo che non amo molto la cravatta. Circa nove mesi prima che la moglie di mio padre diventasse anche mia madre, infatti, la coppia aveva fatto un lungo giro turistico dell'isola, un viaggio che lei può ricordare spesso con sospiri struggenti, e mi sa che in quell'occasione ci fu la semina giusta. Tutto questo per dire che nelle mie vene scorre anche sangue siculoterrone, motivo, probabilmente, che ha spinto i miei passi in un lungo vagabondare, e che dopo un'adolescenza irrequietta al nord e varie tappe al sud, ha finito per farmi approdare, quale migrato al contrario, alla tranquilla terra di Turidù. Ma questo sarebbe arrivato in seguito, dopo un'infanzia piuttosto piatta e banale, di cui non ricordo molto, se non per un episodio considerato increscioso dai miei, e che in realtà si trattò semplicemente di un tentativo di auto-educazione sessuale, anche se mia madre sostinò sempre a definirlo diversamente. Famiglia borghese, educazione all'antica, ma carica di valori, solo spirituali però, perché quelli concreti sono sempre stati carenti o appena sufficienti. I miei genitori di sesso non ne volevano sentir parlare, e ancora erano capaci di sorprendersi e lanciare qualche esclamazione quando in tv affacciava qualche scena erotica. Mio malgrado, io avevo le mie brave pulsazioni, cui cercavo di dare un po' di sfogo. La faccenda andò così. Un giorno che ero malato, a letto, con la febbre, venne a trovarmi una mia amichetta del cortile, la Marisa, un tipo di smorfiosetta petulante per farmi compagnia. Dopo i solidi, stupidi, convenevoli, fra ragazzini timidi ma curiosi, ci eravamo messi a giocare con il Colorado, gioco antesignano di quelli intelligenti, che permetteva di realizzare composizioni variopinte, infilando piccoli stecchi di legno con la capocchia di vari colori in appositi stencil traforati. Non so se esiste ancora, ma è bellissimo. A noi, spiriti creativi, ci inventammo una gustosissima variazione. In pratica, giovani avidi dei misteri del sesso, avevamo cominciato a scrutarci per vedere concretamente le differenze tra il mio coso e la sua cosa, ed eravamo arrivati a un'esplorazione più approfondita, infilandoci a vicenda, per me in presa più complicata, qualche stecchino colorato, così inconsciamente forse, anche per abbellire le nostre cosiddette vergogne. Ed ecco che improvvisamente si spalancò la porta, e con una specie di grido strozzato irruppe mia madre, che paonazza e del tutto indiscreta domandò «Si può sapere cosa state facendo voi due?» Al che io, non so come prontissimo, mi sentì rispondere «Niente, stiamo giocando con il Colorado». Ma fu solo un attimo, perché subito dopo ricordo di essermi vergognato come un ladro, diventando certamente rosso fuoco, mentre Marisa fuggiva via piangendo, inseguita dalle urle esagerate e poco educative, di una mancata suocera.